È una buona giornata perché il ritiro delle dimissioni, cosa che tra l'altro noi abbiamo richiesto dal primo giorno, scongiura per il Comune quello che era lo scenario peggiore, cioè il commissariamento. Direi che come Fratelli d'Italia siamo anche contenti del fatto che il Sindaco abbia condiviso la nostra idea sulla coerenza e sul fatto che le responsabilità amministrative debbano rimanere in capo al centro-destra. Soddisfazione da parte di Fratelli d'Italia. Il governo della città rimane in capo al centro-destra e su questo guido rizzo è irremovibile. I cittadini hanno votato questa coalizione ed è giusto che si continui su questi passi. Abbiamo sempre detto che volevamo il ritiro delle dimissioni, che diamo fiducia al centro-destra, perciò sicuramente non siamo noi il problema, ma credo che la fiducia sia un atto che il Sindaco giustamente chiede come atto dovuto, l'ha detto lui in conferenza stampa, e da là però si deve ripartire, come ho detto prima, con un cambio di passo importante per dare risposta ai cittadini. In silenzio per ora i consiglieri Pasqualotto, Cattapane e Gatto, componenti di quel gruppo misto diventato il caso Sbelli di questi mesi. A parlare invece con toni molto duri è l'opposizione. Credo sia proprio il disprezzo delle istituzioni interpretandoli a proprio uso e consumo. Avevo detto circa 15 giorni fa ai vostri microfoni che si trattava di una marconata, così l'avevo definita, e marconata è stata, come voleva si dimostrare, come avevo anticipato in questi giorni anche alla stampa, Marcon ci ha ripensato, siamo soliti ai ripensamenti di Marcon, lo dico con sarcasmo ovviamente, e quindi ha ritirato le dimissioni. Vedremo in consiglio che cosa ha chiarito con la sua maggioranza. Posizioni poco chiare e un clima instabile all'interno della maggioranza che in città è palpabile. Vedremo gli sviluppi della situazione. Probabilmente Marcon difficilmente mangia il panettone da sindaco. Un tutti contro tutti. Non si può, dice Sartoretto, governare così. La città non se lo merita. Non lo merita anche se lui dice di amarla tanto, ma probabilmente ama tanto il suo posto di sindaco e soprattutto di presidente della provincia. La decisione che il sindaco aveva preso era una decisione problematica sicuramente per la città, però poteva essere anche un momento di ripensamento perché la Lega in questi anni su tanti fronti non ha operato per dare futuro e respiro a Castelfranco. Ci siamo chiusi e lì siamo rimasti. E ora non so se sarà possibile aprire orizzonti in queste condizioni. Grazie a tutti.